Un caffè che vale espresso scende moca sale Era il tempo dove sarebbero successe cose bellissime Questo circuito nasce perché tutto possa tornare ad essere così Il clima addirittura possa provare ad essere così Lo facciamo con il fondatore, eccolo con me in studio Si chiama Romi Fuche e ci racconterà questa storia Che è giovane, ha due anni e mezzo, ma è già un S.P.A. Ed è una storia che ha già regalato a 600 imprese italiane, professionisti C'è di tutto in questo circuito Tutto il mondo creativo e imprenditoriale dell'intrapresa italiana Un modo nuovo per fatturare, quindi per fare cose molto concrete Un modo nuovo per esistere, un nuovo modo per rilanciare Ripensare addirittura la propria azienda Questo percorso ci farà vedere una serie di facce Proprio di quelli che hanno aderito Quindi no fuffa, non cose inventate Vi racconteremo puntata dopo puntata Tutti quegli italiani che stanno reagendo grazie ad InLire Vi aspetto qui, fra qualche secondo dopo la sigla Con Romi Fuche, che è il fondatore del circuito di credito compensativo InLire È più facile a farlo che a ragionare Un caffè che vale espresso, scende moca sale Serve a farci avere quella marcia in più Un caffè che vale senza esagerare Serve a questa Italia per tenersi su Un caffè che vale, rito nazionale È un caffè che vale grazie a te Beh, io parto dal fondatore Questo ciclo di trasmissioni che ci terrà insieme Comincia proprio con chi ha messo a punto quest'idea E qui con me, ve lo presento È il founder di InLire, Romi Fuche Ciao, ciao Piero, grazie Cosa ci fai in questo settore? Come arrivi? Facciamo un po' di percorso a fondare il circuito InLire Che quanti anni ha? È ancora un ragazzino? No, sì, è ancora un bambino diciamo Neanche alle scuole elementari? Neanche Quanti anni? Ma guarda, due anni e quasi e mezzo Piccolo insomma Piccolo piccolo Però che promette bene Ma al momento devo dire di sì Diciamo che è un circuito che intanto In questi poco più di due anni Si è appena trasformata in società per azione Wow Quindi abbiamo iscritto quasi 600 imprese Che oggi transano qualcosa come 12.000 Quasi anzi 13.000 operazioni commerciali Per un volume totale di quasi 9 milioni di euro Allo stato attuale Beh, entriamo un po' a capire come funziona questa formula Ti chiedo, Romi, di spiegarci che cos'è un circuito di credito compensativo Allora, un circuito di credito compensativo Intanto è una rete, un network di imprese Che hanno l'obiettivo diciamo valoriale Di ricollegare l'economia al territorio È chiaro che in un momento di forte crisi Di forte criticità Abbiamo ovviamente le imprese Che soffrono di mancanza di liquidità Perché ovviamente mancando Diciamo così Moneta all'interno dell'economia reale Le aziende vanno ovviamente in difficoltà Nei pagamenti Nel soddisfare quelli che sono i propri bisogni E sappiamo benissimo che il credito Nasce in condizioni di forte fiducia Quindi nel momento in cui Le imprese si fidano l'un l'altro E riescono a darsi in qualche modo fiducia Credito E quindi dilazione, diciamo così, di pagamento Questo circuito nasce nei momenti In cui, e funziona molto bene Nei momenti in cui Il credito tradizionale La moneta tradizionale L'euro Gira poco Perché È un sistema dove proprio il credito Quindi Quell'elemento che si genera Nel momento in cui Io emetto una fattura Un documento di vendita Diventa lo strumento di incasso E di pagamento delle mie forniture È chiaro che questo meccanismo Funziona nel momento in cui Le imprese che sono all'interno di questo circuito Si conoscono Si danno fiducia reciproca In qualche modo E quindi riescono ad autofinanziarsi E quindi in qualche modo Ci stai dicendo che Uno dei vostri primi ruoli È proprio andare a Verificare la bontà Degli affiliati Quindi diventate in qualche modo Anche certificatori Diventate garanti Per ognuno dei componenti Che entra nel circuito In che modo lo fate? Ma con una rete di Community trader Non li chiamiamo Quindi una rete Diciamo di consulenti Di territorio Non sono dei commerciali Sono tutti ex imprenditori Ex manager Consulenti di impresa Che in qualche modo Ci fanno da segnalatori Diciamo così Identificano E selezionano le imprese Sul territorio Andando a identificare Non tanto l'impresa Che è tripla A Diciamo sui rating Voglio dire Tradizionali bancari Ma quelle che sono Un po' più virtuose Quindi vuol dire Laddove Identifichiamo Un imprenditore Che ha Insomma Ha capito Che il mondo Non è più quello di prima Che in qualche modo Solo con una collaborazione Una cooperazione Tra imprese Tra imprenditori È possibile uscire Dalle difficoltà Quel tipo di imprenditore È quello che noi In qualche modo Cerchiamo e selezioniamo A quel punto Diciamo Lo portiamo a bordo Ecco Portarlo a bordo Significa portarlo All'interno di un portale Che offre Un po' a tutti Una vetrina Per cui c'è la possibilità Navigando in questo portale Di andare a cercare Quello che è il proprio bisogno E poterlo acquistare In credito compensativo Spieghiamo bene Fammi magari l'esempio Mettimi dentro Che ne so Un falegname So che avete degli esempi Che ho letto A mia volta Sul portale Ecco Fammi un esempio Di triangolazione Di cosa succede Dal momento in cui Un associato entra E vuole iniziare A comprare Col credito compensativo Oppure ad offrire Il suo servizio Sempre con lo stesso meccanismo Sì allora Intanto bisogna Partire da un concetto Che ogni impresa Ha quello che noi definiamo Il potenziale inespresso Soprattutto nei momenti di difficoltà Voi immaginatevi oggi Noi ristoranti che hanno I tavoli vuoti Piuttosto che gli hotel Che hanno le camere Le stanze libera Esatto Le camere che non vendono Quello è il potenziale inespresso In momenti di forte crisi Chiaramente il potenziale inespresso Delle imprese È molto alto Il magazzino A bassa rotazione Voglio dire Di un'attività commerciale Il tempo libero Di un libero professionista Quel potenziale inespresso Noi che cosa facciamo Lo andiamo a misurare Quindi attraverso questa rete Di community trader E andiamo sostanzialmente A identificare Per ogni impresa La possibilità Io adesso uso un termine Improprio però Di poterlo scontare Finanziaramente Attraverso un affidamento Che viene Diciamo Erogato All'associato Che entra a far parte Del circuito Questo gli permette Immediatamente Di poter acquistare Beni e servizi E poterli ripagare Attraverso questo potenziale Inespresso Un domani Quindi io posso Non so Pagare l'energia elettrica Di fatto Non tirando fuori denaro Ma anticipando Pagando Crediti compensativi Crediti in lire Nei confronti Del fornitore Dell'energia elettrica E questo debito Lo posso ripagare Con i beni e servizi Se sono Un negozio Di informatica Ad esempio Posso vendere I miei computer Ad altri Diciamo Iscritti Del circuito Beh questo In momenti Come quello Che stiamo vivendo Diventa davvero Una soluzione Concreta Il punto è Che siccome Sta accadendo A molti di noi Oggi fatturiamo La metà Di quello Che fatturavamo Prima Immaginiamo 100 mila euro E come hanno fatto Tanti Medio Piccoli Ma anche Grandi imprenditori Magari abbiamo Provato a tenere Gli stessi posti Di lavoro Beh abbiamo bisogno Chiaramente Di poter portare A casa L'altro pezzo Di fatturato Mettiamo Sia altri 100 mila euro Col vostro sistema Ma io potrei Fatturare Quei 100 mila euro Che mi mancano Oggi In credito Compensativo Assolutamente La cosa Diciamo Che poi In qualche modo È forte È potente Del circuito È proprio Che diventa Anche uno strumento Finanziario Proprio perché Se uno vende L'altro compra Uno va a credito Che è quello Che è quello che Ovviamente vende Ma l'altro Deve poter andare A debito Quindi la possibilità Diciamo così All'interno del circuito Di poter Usufruire Di un affidamento Ulteriore Di un affidamento Commerciale Che tra altre cose A tasso zero Perché non siamo Banca Gestiamo solamente Relazioni tra imprese E crediti Di natura commerciale È chiaro che Gli affidamenti Sono a tasso zero E di conseguenza Le aziende Che si indebitano Nel circuito Intanto hanno Meno bisogno Delle banche E sappiamo Nei momenti Di difficoltà Quanto è importante Salvaguardare Diciamo il cassetto Diciamo della liquidità Euro E avere la possibilità Poi in più Di intercettare Nuovo lavoro È proprio questo Questo tema Che è importante Perché il community trader Non fa solo Diciamo la selezione Delle imprese Ma identifica Quelle che sono Le esigenze Di ogni impresa E questo è importantissimo Perché Se io Identifico Che ne so Un carrozziere Che ha necessità Non so Di comprare La cancelleria I prodotti Per la detergenza Per l'auto Magari le gomme All'ingrosso È chiaro che Io so Che questi beni e servizi Se identifico All'interno del circuito Comunque se trovo All'interno del circuito Magari li ho già alcuni Altri Magari li andiamo A scovare Dei beni e servizi Che possono servire A questo iscritto È ovvio che Non facciamo nient'altro Che matchare Ovviamente Domanda offerta E incrementare Il fatturato Dei fornitori Dando la possibilità Al cliente Di potersi In qualche modo Finanziare Senza sborso Di liquidità Rimanete voi Il garante Chiaramente Di tutto il sistema Che c'è all'interno Immagino Che così come Un imprenditore Ha le condizioni Per entrare Possa accadere Che il comportamento Che tiene Dentro il circuito Proprio nelle transazioni Possa determinare Un'espulsione È prevista? Sì è prevista Ovviamente Perché È chiaro che Come dicevo prima Noi selezioniamo Imprenditori virtuosi Poi è chiaro Che non tutti gli imprenditori Si dimostrano Li conosciamo Li conosciamo A fondo Soprattutto in una fase Di selezione Quindi Strada facendo Diciamo col tempo Conoscendo bene Il comportamento Di ogni impresa Poi Se ne determina Ovviamente Il rinnovo La permanenza Diciamo Dell'azienda All'interno del circuito La sua espulsione O comunque Una volta Che viene Comunque azzerato Quello che sono Le posizioni di conto Nel caso in cui Fosse a debito Allora Rom Io mi metterò subito Al lavoro Perché intanto Mi sono associato A mia volta A parte Aver creato Una bella collaborazione Professionale Quindi inizierò A realizzare Siti web Per gli imprenditori Piuttosto che video Come quelli che state vedendo Interviste Racconti Insomma Quello che faccio Con la mia agenzia Tutta la consulenza Legata alla comunicazione Al marketing Ad esempio E quindi Fatturo Nei prossimi tre mesi Obiettivo 30.000 euro No? Come faccio A rientrare Cosa posso Comprare Ecco Incoragiami Dentro il circuito Per la mia agenzia Piuttosto che Per i miei collaboratori E fornitori Perché poi Mi pare di capire Si può coinvolgere Dentro Questo Metodo nuovo Di fare economia Che poi In realtà Noi lo chiamiamo Nuovo Ma è vecchio Come Il mondo del lavoro Ci è sempre stato Assolutamente Voi lo avete Giusto Ingegnerizzato Perché quello che Si chiamava banalmente Il cambio merce Chi non l'ha fatto Almeno una volta Nella vita Pensate ai piccoli Lavoretti Ai giovani universitari Ma chi non ha proposto Di poter Ad esempio Da studente Pensate in passato Dare una mano In un ristorante E avere un piatto Da mangiare ogni giorno Sono successe anche Queste cose Qui è ingegnerizzato Perché il rapporto Non è Romi Uno a uno Ma diventa uno A tanti Ecco Ci spieghi bene Questa opportunità E come fate voi A mediarla Anche grazie alle tecnologie Assolutamente Assolutamente Allora Intanto appunto Come dicevi tu Il cambio merce Diciamo è un qualcosa Che avviene In modo bilaterale Quindi vuol dire Due soggetti Che nello stesso momento Hanno da soddisfare Un proprio Diciamo Bisogno E' chiaro che Essendo solamente Due soggetti Ci deve essere Contestualità Ovviamente Del bisogno Ma Insomma Non è detto Che questo avvenga Che questo matching Avvenga facilmente Diciamo Allargando In qualche modo Moltiplicando L'opportunità In modo multilaterale Quindi io ho la possibilità Di comprare Da un soggetto A Oggi E anche multitemporale Nel senso Lo posso in qualche modo Compensare Con una mia vendita In un secondo momento In un secondo istante Questo diventa Assolutamente Diciamo Un moltiplicatore Di opportunità E Esponenziale E questo vuol dire Anche che se sono Un gioielliere Che sta a Torino Posso improvvisamente Trovarmi un cliente A Milano Che non è esattamente Il cliente Che passava da lì E ecco Anche questa è una cosa Molto interessante In un tempo Come quello Che stiamo vivendo Che è dominato Da un'economia Che è già da anni Una rivoluzione industriale Che è globale Digitale Un circuito Come il vostro Fa anche Un lavoro Educativo Se vogliamo E culturale Perché aiuta Le persone a capire Che il loro negozio Perde in qualche modo Il vincolo Territoriale E guadagna Se vuoi La possibilità Di vendere In tutto il paese No? Sì sì assolutamente Ma questo è anche il motivo Perché come dicevo prima Selezioniamo Imprenditori virtuosi Oggi Sappiamo che Con il lockdown È cambiata L'abitudine di spesa E quindi Le attività Devono per forza In qualche modo Innovare E trovare Delle soluzioni alternative Se io vivo solo Di vendita Diciamo Di piccola prossimità E parlo di un'attività Magari commerciale Che ha delle possibilità E delle opportunità Potenzialmente Diciamo Infinite Dal punto di vista Della vendita È chiaro che sto limitando Quello che è La possibilità Comunque anche di uscire Da questo momento di crisi Senti tu sei il founder Una piccola curiosità Consumi anche tu In credito Compensativo Ormai posso dire Che io E tutti i miei collaboratori Viviamo in dire Nel senso che Come dicevi tu prima Giustamente Abbiamo esteso L'opportunità Di poter utilizzare Il circuito Anche dal punto di vista Personale Intanto In primis Coinvolgendo Quello che noi chiamiamo Il mercato B2E Business to employee Quindi dipendenti Collaboratori Socii amministratori Di un'impresa Che possono ricevere In parziale Pagamento Diciamo Delle proprie aspettanze Il credito welfare Piuttosto che Rimborsi spese In crediti In lire E possono poi ovviamente Rispenderli All'interno del circuito E poi C'è la possibilità E l'opportunità Diciamo Di agevolare Questa metodologia Attraverso La parte digitale Che per noi È una parte Molto forte Nel senso che Io arrivo dal settore IT Prima di fare Questo mestiere Avevo delle aziende Di informatiche Ho fatto il programmatore Proprio da giovane E capisco benissimo Quanto sia importante Innovare In termini Tecnologico Quindi abbiamo costruito Non solo un portale Un marketplace Multilaterale Appunto Dove ogni azienda Ha la possibilità Di acquistare I beni e servizi Con un semplice click Ma abbiamo Nello stesso portale Una gestione Di conto Come se fosse Un conto corrente Nella realtà Il conto di compensazione In lire Dove vengono annotati Tutti gli acquisti Tutte le vendite Che vengono effettuate All'interno del circuito Che chiaramente Danno un saldo Che sommato All'affidamento Che viene erogato All'impresa E genera Una disponibilità Di spesa Mentre tu parli Io già mi immagino Questa è solo La prima puntata Ma lo prometto A tutti coloro Che ci seguono Da casa in ogni forma In ogni modo Poi vi diremo Tutte le possibilità Per seguire Queste trasmissioni Faremo proprio un ciclo Stiamo costruendo Per in lire Addirittura una tv In lire Che sarà animata Di tutte queste storie Perché vogliamo farvi Toccare con mano Quanto questo circuito È innovativo E quanto Ancora di più In questo momento Sta creando Condizioni di benessere Per tante imprese Tanti artigiani Tanti professionisti Nel nostro paese Non vedo l'ora Di potervi raccontare Che questo iPad Ad esempio L'ho comprato in lire Cioè col credito Di compensazione O questa cravatta O questo abito Ecco in attesa Che lo possa fare io Romi Mi racconti qualche Tua esperienza Tu sei il founder Ma come tutti I bravi founder Vai a provare A toccare con mano La bontà Delle operazioni Me ne racconti qualcuna Per far capire Perché so che Chi sta dall'altra parte Quasi non ci crede E perché Soprattutto in Italia Siamo portati a pensare Dove c'è il trucco Ma non c'è il trucco C'è la convenienza Guardate che Le cose funzionano Se vengono progettate Perché ci sia una convenienza Purché tu hai usato bene Prima il termine Sia bilaterale Esatto Esatto Diciamo che Come tutte le cose Devono essere sempre win-win Per quello che riguarda Diciamo il rapporto Alla relazione Tra i partecipanti E ovviamente Tra il gestore E i partecipanti Fammi qualche aneddoto Qualche primo tuo consumo In lire Ma guarda Io ti dico Ormai dicevo Vivo in lire Nel senso che Dall'automobile Con il noleggio a lungo termine Piuttosto che Questo stesso abito Che è stato realizzato Da una sartoria Napoletana Che tra le cose Qui a Milano Che poi inviteremo Sicuramente In una delle prossime puntate I napoletani A fare gli abiti Insomma Quando sono bravi Non ce n'è per nessuno È una scuola sartoriale Molto forte E molto riconosciuta Ad esempio Anche il food delivery Abbiamo all'interno Un food delivery Che si chiama Eat in time Che consegna Più di 2000 Diciamo Ristoranti In tutta Italia E vi è la possibilità Ovviamente Di poter Ordinare il cibo Attraverso la sua app E attraverso La tecnologia Di in lire Delle API E dei plug-in Da integrare Diciamo Nelle app E negli e-commerce Di terze parti Abbiamo la possibilità Ovviamente Di pagare Inserendo semplicemente Le credenziali Un po' come succede Con il paypal Che tutti Sanno usare O col satis pay Nella stessa modalità C'è la possibilità Di inserire Le credenziali Di in lire Alla fine del carrello E poi farsi Ricapitare il cibo a casa Romi il mondo sta cambiando E a volte non ce ne accorgiamo Altre volte non ce ne vogliamo accorgere Però basta E con un po' di buona volontà E poi magari Si scoprono delle cose straordinarie Quello che vi stiamo raccontando oggi È davvero La possibilità Di svoltare Nella propria impresa E nella propria vita E mentre si fanno Le transazioni Succedono anche altre cose Si imparano altre cose E ci sono ricadute ulteriori Quali Romi? Delle quali vi state accorgendo Che cosa ci guadagnano Questi imprenditori A iniziare a conoscerci Attraverso il vostro circuito Cosa gli succede Nella loro vita aziendale? Guarda Nella loro vita aziendale Intanto Alleggeriscono Man mano che lo utilizzano Quello che è il classico Fine mese Ormai viviamo tutti Di scadenze E siamo abituati A vivere Con la scadenza del 16 E la scadenza del fine mese Nella realtà Intanto Interagendo E' chiaro che se io sposto man mano I miei costi all'interno del circuito Che sappiamo essere ripagati Con nuove vendite E' ovvio che il mio fine mese Tradizionale Si alleggerisce E quindi L'imprenditore si focalizza Sempre di più sul business Senza pensarsi A rincorrere le scadenze Perché ormai Purtroppo è da dire Nei periodi soprattutto Di forte criticità L'imprenditore perde di vista Il focus Sul proprio lavoro Perché E' talmente indebitato Che spesso e volentieri Fa fatica poi a emergere A far emergere la propria attività E a venire fuori Un po' dal guado Noi Diciamo Siamo un aiuto In questo senso In più Accompagniamo l'azienda Diciamo Verso Diciamo Una nuova prospettiva Anche dal punto di vista Degli obiettivi Perché Gli diamo visione Gli aiutiamo A formarsi Gli diamo magari Quel pezzo di digitalizzazione Insomma Che manca In molte imprese Ecco Questo vi fa capire Che se c'è un paradigma Che oggi vale Più che mai E che non si può più stare soli Fare l'imprenditore solitario Come spesso In Italia Siamo stati abituati Al di là anche delle parole Si parla tanto di rete Di associazioni Di categorie Però poi spesso Quando si va in profondità Molti di noi Hanno fatto l'esperienza Di non viverla Quell'associazione Di non vederne il risultato Magari di pagare delle quote E non avere mai l'occasione Di vederci un guadagno Con il lira Invece tutto comincia Appena si entra Anche perché voi Avete fatto un lavoro Che ho visto Molto intelligente Cioè avete delle Specializzazioni interne Dei professionisti Che aiutano L'imprenditore A capire come deve comportarsi Sì Oltre diciamo Alla rete dei community trader Abbiamo Uno staff interno Che è composto Diciamo Dal nostro marketing Che sostiene Aiuta Le imprese Nel potersi presentare All'interno del circuito Quindi Semplicemente creando Le vetrine Le promozioni All'interno del marketplace Poi da oggi Grazie anche a questa collaborazione Nascente Inseriremo Diciamo Le video interviste Chiamiamole così Dei nostri iscritti All'interno del portale Quindi Avremo anche Il portale Diciamo Multimediale Interattivo Possibilità di conoscere Di guardare in faccia All'imprenditore All'interlocutore Poi una cosa che vi prometto Intervisterò Qualcuno Della community Tra i community trader Così si chiamano E gli chiederò Insomma come fa E come mi aiuterà Perché ripeto Io sono iscritto Quindi inizierò a chiedere Farò una puntata Solo su questo Al mio community trader E come posso fare A spendere Al meglio Dentro il circuito O mia bella Madonnina Che te brilla De lontà Tu t'adore Ticinina Ti te domine Mila Sotta ti Se vive la vita Se sta mai Quei mani Ma Cante Cento lontan De Napoli Semere Ma Mila Leongra Mila Bene Vi stiamo parlando Di Inlire Siamo insieme A Romi Fucchia Che è il fondatore Che chiaramente Come i bravi fondatori Ci mette la faccia In ogni passaggio Della sua azienda Parliamo di un'attività Che ancora è piccola Se la paragoniamo A un bambino Abbiamo detto Non ha ancora Iniziato ad andare Alla scuola elementare Eppure In due anni e mezzo Ha macinato Quasi 600 iscritti In tutto il paese Parlava poco fa Della sartoria Napoletana Che già Lavora Qui a Milano E tante Tante di queste storie Che chiaramente Vi racconteremo E non solo Questa cosa Sta funzionando Tantemente bene Che siete diventati Un SPA Perché avete immaginato Anche questa forma Se vogliamo Fiscale Ma allora Diciamo che La società Diciamo è uno strumento Chiaramente Che ci deve Diciamo permettere Di arrivare A un determinato obiettivo Quello che vogliamo E che ci immaginiamo Per il futuro Intanto è una società Pubblica Non tanto una società Voglio dire Fatta da Diciamo Piccoli Imprenditori Voglio dire Che a un certo momento Hanno anche magari L'idea lungimirante E che in qualche modo La mettono in pista Quindi Che cosa stiamo facendo Ci stiamo avviando A un percorso Dove Anche Diciamo La partecipazione All'azienda Potrà diventare In qualche modo Un qualcosa Di condiviso Noi ci immaginiamo Addirittura Che un domani I nostri community trader Ma soprattutto I nostri iscritti Possano Addirittura Far parte Diciamo Di questa Della nostra società E quale strumento Migliore ovviamente Di una società Per azioni Il secondo aspetto È che chiaramente Per arrivare A questo Obiettivo A questo traguardo Abbiamo tutto Un percorso di crescita Perché come tutte Le aziende Che crescono Molto rapidamente Ovviamente Poi ricercano Risorse Soci di capitale Fondi di investimento Per poter fare Ovviamente Ulteriori step E siccome Ne stiamo facendo Anche dal punto di vista Soprattutto dell'investimento Tecnologico Parecchi Abbiamo tantissime Inolità anche per il 2021 Perché oltre al mercato B2B B2E Andremo nel mercato B2C Quindi allargheremo La piattaforma Anche al privato Che in qualche modo Non è Diciamo Dipendente di un'azienda Iscritta E in più Diciamo Gestiremo un po' Tutta l'aspetto Diciamo Delle transazioni Anche in modo Molto più social Creeremo Diciamo Gli strumenti E avvieremo Tutta una serie Di strumenti Diciamo Dedicati a questo Bene Mentre noi parliamo Voi vedete tutte le indicazioni Per poter aderire al progetto Sito di riferimento Persone da contattare Insomma Tante informazioni Che con la tecnologia Che ormai abbiamo In un'ottica Multisensoriale Vi arriva A casa Come informazioni Ma ho qui il founder Quindi colgo l'occasione Per chiedergli Ecco Cosa bisogna fare Dall'altra parte C'è già qualcuno Che ci sta ascoltando Che dice Ok Mi avete convinto Voglio entrare Voglio fare questa esperienza Primi passi Cosa deve fare Il primissimo passo È quello di andare All'interno del sito Inter Del sito internet E registrarsi Riceverà il contatto Di un nostro Community trader Che diciamo A fronte di un Magari di una visita Quando si potrà O comunque di una Videocall Stilerà Quella che noi chiamiamo Molto banalmente La lista della spesa Cioè la lista Di quei beni e servizi Che immediatamente Potrà trovare All'interno del circuito Definito Un po' Questo budget Diciamo così Di acquisto Si definirà ovviamente L'equivalente budget Di vendita E da qui Cominceremo A operare Chiaramente L'imprenditore Avrà coscienza Se partecipare All'interno del circuito Gli è conveniente E quindi poi Una volta avvenuta L'iscrizione Che sostanzialmente È la sottoscrizione Di un accordo quadro Permetterà All'azienda Diciamo Di far parte Di questa community Ecco Qualcuno starà Immaginando Chissà quanto costa Una cosa del genere Cosa costa aderire In che modo Mi diventa Una spesa eccessiva No Allora Noi cerchiamo sempre di Diciamo Misurare un po' Ed è per questo Che facciamo anche L'analisi L'aspetto Diciamo così Di sostenibilità Ovviamente In tutte le attività Come dicevo prima Deve essere win-win Il rapporto tra il gestore E il partecipante Perché se è win-win È chiaro che diventa Sostenibile per entrambi E di conseguenza Gli obiettivi comuni Si riescono più facilmente A condividere E ad essere Diciamo collaborativi In uno spirito Poi di partecipazione Nel circuito Se questo Diciamo valore Non fosse Diciamo equilibrato Non fosse sostenibile È chiaro che Perderemmo Diciamo noi Magari un possibile Iscritto virtuoso E chiaramente Iscritto delle opportunità Altra cosa Che mi viene in mente Da imprenditore È il rapporto Che noi Altri Partita IVA Imprenditori E che siano SRL O qualunque Altra cosa Abbiamo con le tasse In Italia Ecco Come si configura Questo sistema Perché dall'altra parte Immagino qualcuno dice Eh ma Quando compro un servizio In questo modo Cosa accade Mi arriva una fattura Come normalmente E scarico Cioè Pago le tasse Di più Uguale Di meno Ecco Spiegami anche Come il circuito Si comporta Rispetto Alla tassazione Alla fiscalità Alla fiscalità No allora Gli acquisti e le vendite Avvengono Con un documento fiscale Come in euro Classico Non cambia assolutamente niente Noi rappresentiamo Uno strumento di pagamento Quindi La compensazione Attraverso il circuito Di fatto È la modalità di pagamento Che permette Diciamo così Di essere Di poter incassare Di poter soddisfare Il nostro fornitore Attraverso il nostro pagamento Quindi di fatto Il credito Viene in qualche modo Ceduto Viene comunque trasferito Da una posizione di conto Ad un'altra Ma la fattura Viene emessa Quindi scarico la spesa Come farei Per qualunque altra fattura E chiaramente Però mi impegno A pagare un IVA Rispetto a quel servizio Sì E dall'altra parte Però la scarico L'IVA Quando compro Infatti Diciamo che Il segreto Diciamo se vogliamo Il trucco Per poter utilizzare In modo corretto Ovviamente il circuito È quello sempre Di poter compensare Acquisti e vendite In uno stesso periodo fiscale Perché in questo caso Diciamo Diventa neutro Quello che è Ovviamente L'esborso In termine di IVA E chiaramente Poi anche Tutta la parte Quindi se io adesso Mi metto a produrre A vendere un sacco Di siti internet Di interviste Di video E accumulo Un credito per 30 mila euro Fate scattare un alert Mi chiamano Assolutamente Mi dice Senti Stai lavorando tanto Devi consumare Ancora prima del 30 mila Ovviamente Perfetto Noi attraverso appunto La tecnologia Monitoriamo un po' Quelli che Le banche chiamavano L'andamentale Quindi vediamo Se un iscritto Tende ad andare Troppo saldo attivo O troppo saldo negativo Senza mai compensare Quindi comportandosi In modo anomalo Chi entrerà In questo circuito Chi c'è Ma chi è che ha detto di sì Chi è che ha dato fiducia A Romi E alla sua grande squadra Di lavoro Ecco Fammi qualche nome Anche un po' di esempi So che avete anche Dei casi molto importanti Dei brand famosi Che ci sono legati a voi Che hanno abbracciato Questo sistema Ecco raccontami un po' Partiamo ecco da quelli Fighi Quelli famosi E poi andiamo anche Ai piccoli E piccolissimi Sì sì No allora Tra quelli sicuramente Più conosciuti Perché chiaramente A livello di nome Sono dei nomi Importanti Abbiamo il Vero Volley a Monza Che è il consorzio Diciamo Vero Volley Che ha al suo interno La squadra maschile La squadra femminile Di Serie A1 È l'unico caso Se vogliamo In Europa Che un unico consorzio Abba all'interno Queste due Due realtà Giocano tutte e due Nella massima divisione Tutta la parte Che è legata Alla sponsorizzazione Diciamo È possibile accedervi Diciamo Per i nostri partecipanti Si può sponsorizzare La squadra In crediti Wow E già ecco Immaginate Si può fare davvero tutto Ecco sponsorizzare Già questo Ci dà un'occasione Non solo di citare Una squadra sportiva Da Serie A Ma capire che Si può fare anche questa cosa Sponsorizzare La propria azienda Cosa che magari In questo momento Si farebbe con difficoltà Assolutamente Altri casi Ma altri casi Ad esempio Racconto su Torino Abbiamo una catena Forse una delle più rinomate Catene di pasticceria A Gerla Che è una realtà Che nasce nel 1927 Quindi storica Sappiamo che Torino È famosa per il cioccolato I giandugliotti Piuttosto che i cremini Insomma E questa realtà Diciamo soprattutto In questo periodo natalizio Ci prepara Diciamo i cesti Per i nostri iscritti Al 100% compensazione Quindi di fatto Accettando per qualsiasi cifra Moneta complementare In lire Che in qualche modo Poi nel corso del tempo Va a spendere Ad esempio loro Hanno nei 15 punti vendita Attivato Luce e gas Con un iscritto Del circuito Bellissimo Quindi si può Addirittura compensare La luce e il gas Assolutamente Della propria azienda O della propria casa Ma totalmente Sì Dipende poi Sempre da Da quanto uno va Diciamo a saldo attivo Quindi Facciamo proprio questa analisi E poi Decidiamo La percentuale Di compensazione Questo sempre per mantenere Un regime di equilibrio Quindi Wow E a vacanze Come state? A vacanze stiamo bene Abbiamo delle catene Di hotel All'interno del circuito IHG Quindi Italian Hotel Group Piuttosto che Allegro Italia Abbiamo Chiaramente Agenzie Viaggi Tour Operator Tra gli altri Abbiamo Un'azienda Che reputo essere Interessantissima Che è tanto svago Che si occupa Sostanzialmente Di tutto quello che è Parchi di divertimento Experience In tutti i sensi E anche poi Nell'ambito Appunto Dei viaggi Delle esperienze Diciamo Italia Fuori Italia È veramente Uno dei portali Più famosi In questo ambito Tra l'altro Fornitore Diretto Insieme a un'altra Azienda Che abbiamo iscritto Che si chiama BitQ È fornitore Diciamo Di tutte le piattaforme Welfare Che abbiamo Alcune di queste Le abbiamo iscritte Che offrono Ovviamente Tutti i loro servizi Ai dipendenti Delle imprese Che si iscrivono Senti Rom Oggi il mercato È davvero molto frammentato Ci sono tanti bisogni Dentro il mercato Basta andare in un supermercato Per vedere Interi reparti Penso al mondo bio Ad esempio Oppure ai cibi sostenibili O salutari Vi state muovendo Avete delle adesioni Anche per chi Ha esigenze particolari Nel consumo di cibo Penso che Il food Insomma È una Delle voci Che a bilancio Oggi Continua ad essere Importante Assolutamente Sì Noi all'interno Abbiamo iscritto Un'azienda Che si chiama Il Contadino Online Che è un'azienda Che è nata Diciamo Esportando frutta e verdura Da coltivazioni italiane Verso Diciamo Verso l'Europa E ha avviato Questo a inizio anno Un e-commerce Quindi verso il privato Con la consegna a domicilio Di frutta e verdura fresca L'attività È stata poi Attraverso Un nostro iscritto Che è in qualche modo Esperto In web marketing Diciamo Ha aiutato l'impresa Diciamo In qualche modo A correggere il tiro E a espandere Le proprie attività E oggi Quest'azienda Sostanzialmente Ha quasi Diciamo Ha fatto nel 2020 Quasi 9000 consegne All'interno Diciamo così Del suo mercato Tra cui Una parte Chiaramente All'interno Del circuito Il Contadino Che è una rete Di contadini Che si sono messi insieme Ma è un operatore Che faceva distribuzione Di frutta e verdura Che ha al suo interno Una rete Ovviamente Di produttori agricoli Che fa Diciamo Seleziona Le migliori fresche A casa Esatto E oggi Ha inserito Pesce fresco E carne Quindi di fatto Ha la possibilità Di consegnare La spesa a domicilio E voi immaginatevi La forza Di poterla pagare Senza tirar fuori Carta di credito Contadino online Ti proverò Molto presto Molto presto E poi vi darò Chiaramente La mia testimonianza Ma Li incontreremo Uno ad uno Già vedrete Nei prossimi giorni Alcuni Di questi Imprenditori Che vengono a raccontarci Che esperienza Stanno facendo Come stanno crescendo Come hanno svoltato Da quando sono entrati Nel circuito In Lire Vi stiamo parlando Di questo circuito Straordinario Che sta innovando In maniera Veramente forte Il modo Di stare sul mercato Da parte delle aziende Porge una mano E certamente Dà una soluzione Ma ci siamo detti Fa anche cultura E anche cultura Dello stare insieme E ne abbiamo davvero Tanto bisogno In questo paese Voi saprete Che questo È uno dei miei impegni Voglio dire Fondamentali E non a caso Ci siamo incontrati Con Romi E abbiamo aperto Questo sodalizio E con la promessa Che vi facciamo A partire Da questa puntata Che vi sta presentando Il circuito È di raccontarvi Tante storie All'interno del circuito E sono certo Che come sempre accade E queste storie Saranno elementi Di spunto Per tanti Che là fuori Stanno cercando Una soluzione Per uscire Da un momento Di difficoltà E magari La troveranno Proprio attraverso Una delle testimonianze Delle tante storie Che vi racconteremo A proposito di questo Romi Qualche aneddoto Che ti ha colpito Particolarmente Che ti ha reso felice E con la soddisfazione Di vedere Qualcuno Che ti ha ringraziato E che magari All'inizio No Questo è capitato Ma ci sono degli iscritti Che ci hanno ringraziato Questo l'anno scorso L'estate scorsa Che ci hanno ringraziato Perché finalmente Sono potuti andare in vacanza Parlavamo prima delle vacanze Perché normalmente Le imprese Diciamo così Siccome vivono Sono anche dei capitali Degli imprenditori Nei momenti di difficoltà Difficilmente L'imprenditore Si stacca Diciamo così L'assegno Per poi Andarsene In vacanza Spesso e volentieri Rinunciano Diciamo così A quello che sono I surplus Diciamo i vizi O comunque i divertimenti Che sono appunto Vacanze Eccetera eccetera E quindi Lavorano Continuano a lavorare Anche ad agosto L'anno scorso Appunto è successo Che Avvicinato Ma tra altre cose Non uno Mi è capitato più volte Di essere Comunque Nel periodo Di settembre Ottobre Al rientro Appunto Delle loro ferie Avvicinato Da alcuni di loro Nei nostri eventi Che mi hanno proprio Ringraziato Grazie al circuito Non solo Ho aumentato il mio fatturato Ma ho avuto la possibilità Di fare le cose Che proprio Avevo dimenticato Di fare Appunto Quali e le vacanze Mi hai raccontato Qualche aneddoto Adesso ecco Vorrei sapere qualcosa In più su di te Cioè Ma prima di fare questo Che lavori hai fatto Cos'è che ti ha Che ti è tornato Poi utile Quando hai immaginato In lire Guarda Ti racconto Proprio questa Esperienza Io ho sempre fatto E lavorato Nell'ambito Dell'information technology Ti raccontavo prima Come programmatore Quindi Softwareista Ho lanciato Parecchie iniziative Che poi sono anche Risultati di successo Nel mondo del software E poi Mi sono dedicato All'hardware Nel momento in cui Negli anni Fine anni 80 I primi degli anni 90 C'era una forte necessità Di prima digitalizzazione Delle famiglie E quindi Tutto quello Che era Produzione Di computer Del personal computer Stava esplodendo Quindi In questo voglio dire Il tuo DNA Non lo hai smentito No assolutamente I giapponesi Siete veramente Numeri uno In informational technology In questo approccio mentale Molto giusto E molto avanti Rispetto a tantissima tecnologia Che ha animato Anche la mia infanzia L'infanzia Di molti di voi Arriva esattamente Da Da quella terra Quindi in questo Sei davvero coerente Questo DNA Questo talento Lo hai messo a frutto E' una delle ragioni Per cui il vostro portale Sul piano tecnico Funziona Sì sì Assolutamente Chiaramente Ho un po' Una cura maniacale Per quelle che sono Le funzionalità Che man mano Stiamo implementando Ma proprio perché Mi rendo conto Che oggi Voglio dire 2020 Bisogna sì Mettere insieme Una rete Di persone Noi Di relazioni Ma non lo si può fare Escludendo La tecnologia Quindi l'unione Di questi due mondi E' il punto di forza Di Inlire Bellissimo Vi stiamo parlando Di Inlire Questo circuito Di credito Compensativo Che consente Agli imprenditori Di aggiungere Un fatturato nuovo Che non ci sarebbe Che si determina Chiaramente Dal fatto di poterlo Poi pagare Appunto Inlire E quindi In compensazione Col proprio lavoro Cioè io metto Il mio lavoro Quello che so fare Io I miei ragazzi La mia squadra di lavoro E dall'altra parte Ci sono imprese Che fanno la stessa cosa Chiaramente Si può scambiare Sia il prodotto Che i servizi Vi abbiamo raccontato I tanti prodotti Vale anche per il mondo Dei servizi Mi fai un po' di esempi Dei servizi principali Che troviamo A parte già Il mio Cioè quello che sto facendo Adesso E quindi La comunicazione Piuttosto che il web Ma quanti altri professionisti Nel mondo dei servizi Cosa possiamo comprare? Abbiamo da tutto Abbiamo i notai Abbiamo i commercialisti Gli avvocati Tra le altre cose Tutti anche con Specializzazioni diverse Perché c'è chi Buste paga Chi Fiscalità Chi fiscalità internazionale Chi Start up Abbiamo Ovviamente Degli incubatori Abbiamo all'interno Addirittura Delle imprese Che accompagnano Le aziende A crescere Quindi In qualche modo Dei Venture capitalist Diciamo Un po' più Diciamo Degli angel investor Ecco più che Che quindi Sono in grado Anche di accompagnare In una crescita di capitale Abbiamo Una piattaforma Di crowdfunding A livello proprio Di prestito Di debito Quindi Non il classico Equity crowdfunding Che entra in partecipazione Ma la possibilità anche Di riperire finanziamenti Per finanziare Operazioni straordinarie Ma Mettendo insieme Il credito in lire Da una parte E chiaramente Questa piattaforma Dall'altra E lo spettacolo Che io amo tanto Perché vengo un po' Anche da lì Dal mondo degli eventi Ha trovato spazio Abbiamo pianisti Cantanti Cavarettisti O sono un po' più timidi In questa fase No Diciamo che abbiamo Delle agenzie Di eventi Di eventi Che hanno Che hanno poi all'interno Che scoprono talenti E che hanno all'interno Del loro portafoglio Dei gruppi Quindi si può comprare Anche l'animazione La festa L'evento Beh insomma Veramente tanto Veramente tanto Stiamo parlando di in lire Siamo alle battute finali Ecco A cosa state lavorando? Come migliorerà ancora in lire? Ripeto 600 imprese Intanto in termini di numeri Nei prossimi 24 mesi Dai stiamo larghi A quante A che numeri Volete arrivare? Vogliamo superare Le 2000 imprese scritte Anche perché In lire nasce principalmente In Piemonte E Lombardia Come due aree Diciamo dove è nata Poi adesso Si sta espandendo In altre Diciamo Otto regioni E quindi È chiaro che ci Aspettiamo Di sviluppate Una crescita esponenziale Anche il numero di scritti E questo chiaramente Porterà poi Insomma A un volume di scambio Di transato A un numero di transazioni Che noi chiamiamo Strette di mano Molto importanti Ecco Questo significa anche Che man mano che in lire Arriva nelle varie regioni D'Italia Se ci state seguendo Anche da regioni Dove in lire non c'è Vedete i numeri Chiamate Siete i benvenuti Magari ancora di più Perché sarete Gli iniziatori Del circuito Nella vostra città Provincia o regione E chissà quante altre opportunità Il circuito Ha pensato per voi Fatelo Ma questo significa davvero Che possiamo Immaginare Di connettere un po' Anche Tutto il tessuto Di un'Italia Romi che ha Non ce lo dimentichiamo Se stiamo al cibo Prodotti tipici Straordinari In ogni dove Quindi pian piano Potremo comprare Che ne so Le orecchiette Pugliesi Quelle vere In lire Piuttosto che Che ne so Il formaggio sardo O il vino siciliano No ma questo Già in parte Succede Per le regioni Che sono state attivate Già succede Proprio perché Alcuni dei nostri iscritti Hanno attivato La possibilità Di incassare No Dalli loro e-commerce Diciamo I crediti in lire Col pago in lire Quindi avere la possibilità Di spedire In altre regioni A utenti Che lo desiderano Questi prodotti Guardate A me entusiasma Quest'idea Non a caso Non sono solo qui In qualità Di partner Di questa iniziativa Ci sto credendo Davvero tanto Ma anche proprio Di consumatore Perché Ci vedo tanto Intanto Ecco l'energia E il fatto Di poter stare insieme Ma anche La possibilità Davvero Di pensare al lavoro Come strumento Anche creativo Perché il lavoro È creatività Assolutamente Il lavoro È passione È creatività Voglio dire Ormai passiamo Più tempo a lavorare Che a casa in famiglia E soprattutto Per noi imprenditori E quindi Per forza di cose Insomma Fai qualche promessa Agli associati Adesso che ti stanno guardando Cosa farai per loro A cosa state lavorando Cosa ci sarà di nuovo Proprio nei prossimi mesi No allora Nel 2021 Dicevo ci sarà Comunque Sarà un anno pieno Di novità Intanto Diciamo Utilizzeremo Questo format Diciamo Anche che stiamo realizzando Di una tv in lire Per presentare I nostri iscritti Perché è una Della problematica Delle criticità Che si riscontra In tutti i network Diciamo numerosi È quello poi Di riuscire A far capire A ogni singolo iscritto Chi c'è Dall'altra parte E che cosa possono offrire E quali aziende Diciamo Possono fare per loro Dal punto di vista Poi delle forniture Quindi Il fatto di trovare Un modo interattivo Multimediale Per presentare gli iscritti Lo reputo comunque Già Un'innovazione Pazzesca Siccome ci stiamo poi Spostando Su Voglio dire Un po' Anche derivanti Da questi lockdown Che stiamo vivendo Comunque Su una digitalizzazione Spinta Delle imprese Questo diventa Anche un modo Diciamo Se vogliamo Un po' forzato Ma sicuramente Positivo E produttivo Per le aziende Per cambiare Un po' faccia Insomma Non ve lo dovrei dire io Ma il presidente Ha scelto bene Sono il nuovo Pippo Baudo De circuito In lire Di scrivetemi sotto Se vi piace Il mio modo di condurre Di fare domande Di metterci la faccia Ma devo dire Ci siamo trovati Con Romi E subito è nata Un'intesa Perché ecco Io credo tantissimo Ecco Nelle energie Nella complementarietà Nello stesso modo di vedere Anche quando si fanno Lavori diversi Quindi sono felice Di essere qui E di portare Anche il mio lavoro Dentro Questo percorso E di dare voce A tutti gli imprenditori Di Italia Di in lire Poi Romi Sani Abbiamo parlato Che parallelamente Sto sviluppando Il circuito Italia Vale Che vedrà in in lire Un associato E un partner fondamentale Quindi tutti Gli imprenditori Anche Del percorso Italia Vale Che stiamo realizzando Avranno l'occasione Di poter avere in pancia Un prodotto come in lire E sono felicissimo di questo Perché sono certo Che faremo grandi cose Sì sì Sono sicuro anch'io Allora Un'altra cosa Appena ce la faranno fare Presidente Che faremo E andare in giro Per l'Italia A conoscere Questi imprenditori Proprio da vicino Nel loro territorio Un vero e proprio tour Che dici? Sì sì Da fare assolutamente Adesso L'associato più distante Che hai da Milano Dove sta? Abbiamo Napoli E Cagliari Wow Cagliari e Napoli Bene Siamo già Quindi in Sardegna Ci siamo In Campania Ci siamo Una regione Che desideri Ardentemente Che ancora Non si è fatta vila Magari qualcuno Ci chiama Dopo questa trasmissione Il Veneto Dove siamo poco presenti Ma chiaramente sappiamo Che il Veneto È molto produttivo Ci sono imprenditori Voglio dire Quindi mettere il primo Sassolino In Veneto E poi anche lì Vedrete Tra Prosecco E tanto altro Avremo davvero Tanto da fare Siamo davvero All'ultimo Minuto Ecco Ecco Una Buonissima ragione In più Per stare In Inlire Proprio in questo momento Che stiamo registrando Ecco Perché facciamo parte Dell'economia del cambiamento Oggi sappiamo che le cose E sappiamo benissimo Quali cose non funzionano Partecipare Diciamo Al circuito Inlire Significa anche Far parte di un movimento Del cambiamento Imprenditoriale E questo per me Non ha valore Nel senso che è talmente Importante Ma anche per lasciare Nei confronti I nostri figli Voglio dire Un mondo diverso Un mondo migliore Noi sappiamo che oggi La ricchezza Si è concentrata Tutta Diciamo Nelle fag No Il Facebook Amazon Apple E Google E sappiamo Ad esempio Che il Nasdaq Tra virgolette Il 51% del Nasdaq È controllato Direttamente Indirettamente Da queste Da queste realtà La concentrazione Diciamo Di ricchezza In questo momento Sta impoverendo Il resto del mondo Ecco Quest'ultima cosa Che ha detto Romi È perfetta Per chiudere Perché vuol dire Che nulla È scritto In maniera definitiva Che così come Non hanno fatto I grandi gruppi E anche noi Piccoli Possiamo prenderci in mano Un pezzo di economia Grazie all'innovazione Gli strumenti Sono lì per tutti Non costano Tanto È la testa Che a volte Fa più fatica E fa costare Di più le cose Quindi davvero Cogliamo questa innovazione È un modo per reagire E per cavalcare Questa ondata Le nuove tecnologie I nuovi mercati Soprattutto in un paese Come l'Italia Che è fatto veramente Di aziende piccole A volte A conduzione familiare Che però hanno proprio In questa loro particolarità La cosa che li differenzia Nel mondo Siamo bravi Bravissimi Geniali Facciamo le cose Come nessuno al mondo Però abbiamo bisogno Adesso davvero Di parlarci E di unirci Soprattutto per regalarci I romi Mi pare Quel consumo interno Che è quello che abbiamo Perduto di più Negli ultimi anni Sì assolutamente Assolutamente È chiaro che il piccolo Diciamo da solo Fa sempre fatica In qualche modo A generare Diciamo Fatturato Quindi prodotto interno loro Anche perché si è detto Che le aziende Che hanno tenuto di più In questi anni di fatica E di crisi Sono quelle che erano Già pronte per l'internazionalizzazione Ed erano andati quindi A prendere i soldi all'estero Ecco Il circuito in lire Consente Volendo di fare anche quello Perché all'interno Ci sono anche partner Che lavorano Per l'internazionalizzazione Ma Tra le mission Più importanti È quella di Rivitalizzare E ridare vigore Al consumo interno Mantenere la ricchezza Sul territorio Assolutamente sì Rimanete con noi Guardate tutte le indicazioni Da oggi parte Questo nuovo canale Che vi racconta Il circuito in lire E raccontandovi Il circuito in lire Vi racconta davvero Tante storie Di quella che io Amo chiamare L'Italia che vale Che sempre di più Vedrete Crescerà Grazie Alla vecchia lira Da cui Trae ispirazione Questo circuito Grazie Romi Grazie a te Piero Un caffè che vale Espresso Scende Moccasale Serve a farci avere Quella marcia In più Un caffè che vale Senza esagerare Serve a questa Italia Per tenersi su Un caffè che vale Rito nazionale È un caffè che vale Grazie a te Grazie a te